Il dottor Andrea Sinigaglia, direttore sanitario dell'ospedale Bonomo di Andria, è scomparso improvvisamente questa notte a causa di un malore, punto di riferimento per la ASLBAT. Con alle spalle diversi importanti incarichi e di responsabilità, Sinigaglia, 60 anni, lascia una moglie e due figli. Nato a Taranto, ma biscegliese, d'adozione, era specializzato in neurologia, medicina legale e criminologia clinica. Dal 2013 fino ad aprile 2022 è stato direttore sanitario dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie da luglio 2021. Dirigeva anche il Bonomo di Andria, ma in passato è stato inoltre direttore sanitario del presidio ospedaliero di Barletta. Dal 2012 ha ricoperto la funzione di presidente della Commissione Invalidi Civile e legge 104, mentre ha sempre svolto una rilevante attività di consulente tecnico medico legale presso la procura della Repubblica del Tribunale di Trani. Durante l'emergenza Covid è stato anche responsabile del presidio dedicato a Bisceglie. La sua morte ha lasciato sgomenta la direzione strategica e tutto il personale sanitario amministrativo dell'ASLBT. Siamo attoniti di fronte ad una tragedia ed una perdita simile, ha dichiarato Tiziana Di Matteo, direttrice generale dell'ASLBT. L'abnegazione con la quale Andrea Sinigaglia svolgeva il suo lavoro era da esempio per tutti. Mi unisco al dolore della sua famiglia a cui l'ASLBT si stringe forte e di quanti, tra amici e colleghi, hanno avuto modo di conoscere la dedizione, la competenza, le doti umane e professionali che facevano del dottor Sinigaglia un assoluto modello da seguire.